Con Nicola Falasco che potrà tra poco interagire anche con voi, mi spiegava l'episodio del falo di mano contestato dai giocatori di Bisoli che chiedevano la seconda munizione, lì diciamo che ha avuto un po' di fortuna il Pelugia ha avuto un po' di fortuna Nicola Falasco che oggi ha fatto male alla squadra della sua città, una partita di grande temperamento, questo va detto subito, ecco sul piano individuale una bella soddisfazione, il tuo gol è stato poi raggiunto da quello del Padova Però già essersi sbloccato è stato importante per te e poi chiaramente per la vittoria che è arrivata Sicuramente è stato molto importante per me essermi sbloccato e questo mi dà ancora più fiducia, non potevamo finire la partita sicuramente con il pareggio, dovevamo cercare in tutte le maniere di portare a casa questi tre punti per come era andata la partita Dovevamo assolutamente vincere in qualsiasi maniera e siamo stati bravi a riuscirci però devo dire che queste partite qui dobbiamo chiudere molto prima perché non si può ogni volta arrivare al novantesimo ancora con il risultato fermo sul pareggio e dobbiamo sbloccarle prima Avevate trovato importanti equilibri con un giocatore che diciamocelo francamente è molto importante per voi Norbert Ghiomber ma al di là dell'assenza dello slovacco come vi spiegate, come vi siete spiegati nello spogliatoio in queste ultime partite Queste situazioni anche su palli inattiva, su questi cross, su queste palle contese in area in cui poi arriva sempre il gol dell'avversario Sì, devo dire che in allenamento quando le proviamo io vedo anche abbastanza concentrazione, siamo tutti molto attenti su quello che stiamo facendo Però ci dobbiamo continuare a lavorare già subito da domani perché non possiamo più prendere questi gol Sono perfettamente d'accordo con lei, come ho detto prima sì dovevamo chiuderla sicuramente al primo tempo Poi magari ci siamo un po' messi lì a giochicchiarla un po' troppo e invece dovevamo chiuderla Poi loro è successo del gol lì sul finale del primo tempo, mancava veramente pochi minuti dovevamo andare a riposo sicuramente in vantaggio noi Sì, questa cosa dei gol, come ho detto prima, avete ragione, dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo stare molto molto più attenti Perché, come ripeto, non si può più prendere gol perché poi comunque c'è l'avversario, non è facile comunque fare gol Quindi dobbiamo essere più tenaci dentro l'area, più cattivi Non penso sia questo il problema, secondo me l'importante è essere più cattivi, più concentrati Non penso che i centimetri vadano a influire perché comunque abbiamo giocatori con una buona gamba E anche se magari non siamo molto alti, comunque hanno la gamba per staccare Ma devo dire che noi sappiamo che dobbiamo continuare a giocare così, come abbiamo dimostrato anche stasera Possiamo mettere in difficoltà tutti quanti Penso che comunque vincere all'ultimo minuto ti dà sempre quella carica in più Comunque adesso dobbiamo andare domenica a Livorno per portare a casa altri punti Perché ne abbiamo già persi abbastanza in giro nelle precedenti partite Sì, ha perfettamente ragione, devo un attimo stare più tranquillo Che lì sono cominciato la partita pensando, avevo un bel giocatore contro E volevo subito fargli capire, forse magari al primo fallo gli avevo fatto un po' troppo capire Forse come era la serata Però sì, ha ragione Grazie, grazie a Nicola Falasco